febbraio è il mese dedicato al vino in toscana un settore d'eccellenza per quantità e qualità oltre il 95 per cento dei vini toscani infatti sono dop e continuano ad aggiudicarsi i premi importanti in tutto il mondo si parte il 7 e l'8 febbraio alla fortezza da basso di firenze con buy wine a cui parteciperanno 260 aziende vitivinicole mentre il 15 febbraio sempre la fortezza da basso ospiterà prima anteprima l'anteprima collettiva dei vini toscani dove addetti a lavori e stampa specializzata potranno degustare le nuove annate iniziamo con il buy wine 260 aziende 220 buyer da 50 paesi con paesi anche nuovi che si avvicinano alla toscana e il vino della toscana il 45 per cento dei produttori che vengono qualcosa meno sono produttori biologici o biodinamici anche questo della sostenibilità e della produzione di qualità per noi un aspetto importante poi dal 15 di febbraio iniziano le anteprime questo è un momento per noi fondamentale in un anno come il 2019 nel quale la toscana ha avuto una produzione di 2,6 milioni di ettolitri con un più 11 per cento rispetto all'anno precedente e se lo confrontiamo con le altre regioni dove ci sono stati cali di produzione vicini al 20 per cento meno 19 per cento la dice lunga quanto i nostri produttori hanno saputo lavorare prima anteprima da il via alla settimana delle anteprime di toscana che si concluderà il 22 febbraio in programma che anti lovers alla fortezza da basso che anti classico collection sempre a firenza la stazione lopolda l'anteprima della vernaccia a san gimignano del vino nobile a montepulciano e infine benvenuto brunello a montalcino inoltre in occasione di buy wine i buyer verranno accompagnati in sette wine education tour alla scoperta delle cantine del territorio il vino della toscana porta turismo anche perché sono prodotti di grandi livelli su un territorio unico per questo noi crediamo le camere di commercio ci credono di creare di portare a visitare questi 140 buyer insieme alle altre camere di commercio della toscana di vedere il territorio per capire le caratteristiche distintive tra le novità di quest'anno c'è la rassegna cinematografica chuck e wine al cinema la compagnia di firenze tre serate dall 8 al 10 febbraio di film dedicati al vino e degustazioni è un programma densissimo saranno proiezioni accompagnate da degustazioni piccoli speech che faranno della compagnia un palcoscenico come se si fosse in una cantina multimediale ecco dalla cantina al palcoscenico vino e cinema è una delle caratteristiche di buy wine il vino toscano è sempre più rosa oggi nella sede della regione sono state premiate due donne che stanno contribuendo a portare in atto il nome della toscana la senese carlotta salvini insegnita del titolo miglior sommelier d'italia fisar 2019 e barbara tamburini vincitrice dell'oscar del vino premio giacomo tacchis come miglior enologo 2019 io sono toscana quindi per me il vino toscano è un punto di riferimento da sempre il cuore il l'elemento portante della della mia attività quotidiana e la toscana è una regione che ha tutto in sé quindi a a partire dalle zone interne della toscana quali sono chianti classico brunello di montalcino nobile di montupulciano per poi andare sulla costa dove partendo da bolgeri scendendo a suverito per poi andare sull'isola delba credo che troviamo tutte le situazioni pedoclimatiche che possono affascinare qualsiasi tipo di consumatore grazie Grazie a tutti